Musica Benvenuti a Tu per Tu, faccia a faccia settimanale con i consiglieri provinciali e questa volta è il turno di sedere sulle nostre poltrone a Claudio Cia di Civica Trentina che lo salutiamo, lo ringraziamo, ma con Claudio Cia subito vorremmo entrare nel dettaglio di quanto è accaduto nelle ore scorse, la cronaca più recente è quella che vede l'avvicendamento all'assessorato alla sanità di Donata Borgonovori che ha lasciato il posto a Luca Zeni. Allora immediatamente con Cia una considerazione su quanto è accaduto, sulle scelte adoperate dal Presidente Rossi e poi le considerazioni che si sono susseguite da parte delle minoranze, non ultima la sua stessa che sollevava magari proprio qualche dubbio in merito alle capacità, se così vogliamo definire, di Luca Zeni. Ma sicuramente Luca Zeni è una persona che ha esperienza in campo politico in quanto è sulla scena politica di diversi anni. Io ho qualche dubbio che abbia la competenza per gestire un assessorato alla sanità e teniamo presente che se c'è un assessore che non ha competenza in quell'ambito in cui ha chiamato a governare è evidente che a governare sono i dirigenti. La stessa Borgonovore in fondo a suo tempo quando fu nominata assessora era stata privata di l'unica dirigente competente che in quel momento rappresentava la sanità presso l'assessorato. La stessa dirigente che aveva seguito per tutto il mandato l'attuale presidente Rossi quando era assessore. Per cui la stessa Borgonovore in un certo senso è stata un po' resa a zoppa proprio da questa diciamo decapitazione della dirigenza perché evidentemente arrivava lei nuova, senza competenza, in più gli hanno messo un dirigente nuovo, anche questo senza competenze e quindi sicuramente questo non ha giovato. Per cui ora ci ritroviamo sicuramente Luca Zeni con tutte le capacità che può avere ma qualche dubbio io ce l'ho sulla questione di saper rappresentare la sanità. Attualmente la sanità è piuttosto in fibrillazione proprio perché abbiamo avuto modo di osservare in questi anni che è mancato proprio il dialogo e l'ascolto del mondo sanitario. Cosa si aspetta secondo lei rispetto alla gestione Borgonovore? Zeni cambierà marcia? È inevitabile che sia così? Oppure come dice la Borgonovore non potrà che attenersi a cose già decise tra parentesi dalla passata legislatura? Ma la assessora sicuramente dice una verità. Lei si è trovata ad applicare ciò che avevano già deciso altri. L'ha fatto bene, non l'ha fatto bene? Pare che in qualche modo non abbia goduto della stima dei suoi colleghi di giunta e di maggioranza. Certamente Zeni si troverà a fare, a dover applicare quello che è stato deciso nella precedente legislatura quando era assessore alla sanità Ugo Rossi. Per cui non so cosa possa fare diverso dall'assessora, dall'ex assessora Borgonovore se non quello evidentemente speriamo di saper comunicare maggiormente col territorio. Quindi le chiusure dei punti nascite saranno confermati secondo lei? Ma io spero di no, spero di no. Anche se, ripeto, l'assessora Borgonovore non ha fatto altro che applicare quello che a suo tempo aveva deciso Ugo Rossi. Quindi scaricare sulla Borgonovore delle responsabilità che non gli appartengono, semmai l'unica cosa che io li imputo all'assessora è quello di non aver saputo dialogare e di non essere stata capace di farsi spiegare bene anche con i rappresentanti delle comunità del territorio. Quindi io credo che Zeni si troverà a fare la stessa cosa che faceva l'assessora, almeno che non si metta in discussione quello che era stato deciso in passato. Allora cambia il campo su cui giocare. A proposito di sanità, sentiamo una considerazione che abbiamo raccolto per strada, la stessa domanda abbiamo fatto poi al cittadino, la rivolgo anche a lei. Sentiamo un attimo che cosa abbiamo raccolto. Secondo lei la sanità trentina è ancora a buoni livelli? Sì, secondo me sì. Da cosa lo deduce? Esperienza diretta, sentito dire? Esperienza diretta come operatore e come cittadino. Operatore cittadino, quindi ne sa, il signore ne sa. Secondo lei Cia la sanità trentina è ancora a buoni livelli? Ha bisogno di cambiare, di questi cambiamenti profondi di cui si sta parlando proprio anche adesso, questo ridimensionamento degli ospedali di periferia oppure no? La sanità trentina è ancora a buoni livelli perché chi fa la qualità della sanità sono gli operatori. E qualche volta gli operatori non sono aiutati dalla politica. Noi ci troviamo attualmente a avere dei infermieri, dei medici, dei OS che stanno veramente facendo salti mortali per garantire la qualità dell'assistenza e della cura. Per cui il fatto che il cittadino riconosca che c'è ancora buona qualità, riconosce che al di là dei tagli, gli operatori stanno veramente facendo dei miracoli per poter tenere in piedi questa qualità. Il fatto della riorganizzazione di tutto il comparto sanitario non c'è dubbio, ma deve essere una riorganizzazione che mira a razionalizzare in modo ottimale le risorse. Io non so se privare il territorio dei vari servizi può in qualche modo aiutare a garantire questi servizi. Io ho qualche dubbio. Io credo che la razionalizzazione deve essere fatta in modo diverso. Certamente deve essere chiarito a tutto il territorio che tipo di sanità vogliamo. Perché attualmente c'è veramente tanta confusione. Gli amministratori si rivolgono alla politica per chiedere informazioni circa gli ospedali del loro territorio e si sentono dire, dagli amministratori provinciali, si sentono dire una cosa. Sulla stampa o dai telegiornali ne apprendono un'altra. Evidentemente qui c'è un difetto di comunicazione che non giova certo a tranquillizzare la gente e quindi anche gli amministratori del territorio. Altre due questioni rapide CIA. Cominciamo con l'IMIS, una sua proposta di legge tra qualche settimana che arriverà in aula e che introduce il concetto di spazio vitale, ovvero? Sì, praticamente io ritengo che un'abitazione debba considerare una metratura non tassabile. La metratura eccedente può essere tassata come prima casa. Faccio un esempio. Se una persona abita un appartamento, io non devo considerare nella tassazione i primi 45 metri quadrati. Se le persone che abitano quell'appartamento diventano due, ecco che la metratura non tassabile dovrà essere di 60 gradi e su di questo passo. Tutto l'eccedente potrà essere considerato prima casa e quindi dovrà essere applicata quella che è appunto la tassazione dell'IMIS. Io credo che questo vada in contro soprattutto a quelle persone che hanno un monolocale, spesso sono anziani, che hanno spesso anche una pensione minima e che sarebbe a mio avviso ingiusto infierire su una fatica che hanno accumulato nel tempo e che appunto è l'unica cosa che hanno portato a... Quindi spazio minimo 45 metri quadrati. Da lì in poi si paga? Sì, si paga. Da lì in poi si paga. Viene considerato prima casa. Quindi tutto ciò che va oltre i 45 metri quadrati viene... È soggetto a tassazione. Poi vedremo come andrà ovviamente questa proposta. Sì, adesso io la faccio. Questa è una proposta, poi se ne discuterà in aula, è chiaro. Si è discusso tanto e continua a far discutere l'amico o non amico orso a questo punto. A che livello siamo in Trentino da questo punto di vista? Ma io credo che l'orso in questo momento stia creando molta preoccupazione sul territorio. Anche il mondo turistico ne risente, lo hanno dichiarato senza tanta paura. L'orso, io credo che bisogna avere il coraggio di considerare che questo è un animale che sul nostro territorio non ha predatori. Di conseguenza è un animale che si riproduce senza essere contrastato da nessuno. Un animale come l'orso può vivere anche 30 anni. Noi dobbiamo considerare che con pochi esemplari oggi siamo arrivati a circa 60 orsi tra adulti e cuccioli, di quelli che sono stati monitorati. Molti altri potrebbero esistere e che non sono stati ovviamente classificati. Io credo che dobbiamo avere il coraggio di porre un freno, anche perché va benissimo la presenza dell'orso. Ma evidentemente se la presenza dell'orso nei boschi, nei nostri valli, porta a uno svuotamento dei boschi, delle nostre valli e delle persone che le abitano, evidentemente qualcosa non funziona. Quindi che freno metterebbe lei? Come lo metterebbe? Ma innanzitutto io credo che bisognerebbe cominciare a dire o li trasferiamo, li prendiamo, li trasferiamo, proprio fuori dal territorio trentino, anche se la vedo un po' difficile, perché comunque, se no cominciamo anche a fare un'operazione di sterilizzazione di questi animali. Perché no? A un certo momento si sterilizzano cani e gatti perché non si riproducano. A un certo momento se questo animale non ha predatori che in qualche modo possono creare un equilibrio, in qualche modo deve pensarci l'uomo. E poi comunque dobbiamo dotare anche i cittadini di strumenti che si possono veramente difendere qualora si trovassero a incontrare uno di questi animali. Tipo? Beh, adesso per esempio questa sera si parlerà a Borgo al Sudana proprio dell'introduzione dello spray peperoncino, quello che è usato anche in Canada, che attualmente sul nostro territorio è fuori legge, ma che vedo che non ci sia altro a cui ricorrere attualmente, almeno che non si ricorra al fucile. Ecco, ma insomma evitiamo se è possibile per intanto. Ecco, almeno per ora, altrimenti solleveremo poi le proteste di qualcun altro. Quindi ecco, in sostanza questo dice Claudio Cia, insomma sul fronte Orsi valutiamo bene il da farsi, consideriamo anche la sterilizzazione, dice perché no. Spazio minimo vitale per quanto riguarda la casa e quindi una tassazione un po' più equa, soprattutto per chi ha una piccola abitazione. e sul fronte Borgo Nuovo Re, insomma, qualcosa era già deciso e diversamente è difficile pensare di riuscire a fare. Insomma, ci parlo di aver capito. Questo è il riassunto all'intervento di Claudio Cia di Civica Trentina, che ringraziamo per essere stato con noi a Tu per Tu. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. E ovviamente a voi tutti l'appuntamento della settimana prossima. Grazie a tutti.